Questa è una giornata importante e vivace, è importante per le attività di donazione di trapianto in Campania, perché presentiamo ufficialmente una campagna di informazione sulla donazione. È importante perché parte la possibilità per chi cambierà la carta di identità oggi in molti comuni della Campania e speriamo presto anche a Napoli di dichiarare la volontà della donazione al momento della consegna della carta di identità. Parte anche gioiosa, come sentite, con le scuole, con i bambini che hanno preparato un loro spettacolo. Donare è la vita e allora questa è una manifestazione di vita. Qui a Napoli, qui con i bambini, in un'atmosfera di gioia, ma che ci riporta a una realtà importante. Ci sono persone che possono essere curate solo se qualcuno dona gli organi. Arrivare a questo traguardo richiede un grande sforzo corale di molte persone, di un'organizzazione complessa negli ospedali, ma ricrede anche l'entusiasmo e la credibilità delle gente. E la risposta di oggi è bellissima. Grazie a tutti.